Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo, un fine settimana di caldo africano su molte aree del nostro paese per l'arrivo dell'alta pressione subtropicale di matrice nordafricana che invierà correnti molto calde dall'entroterra sariano verso Spagna, Francia ma anche le nostre regioni, soprattutto le regioni settentrionali. Ritroveremo bel tempo a parte qualche isolato temporale di calore ma osserviamo le temperature perché saranno estive su tutto il centro sud, 34 gradi attesi sulla Sardegna ma al nord potremo toccare 34-36 gradi tra Piemonte e Lombardia, Emilia e Veneto. Tutti i dettagli precisi li trovate scaricando l'appo gratuita di Trebimeteo sul nostro sito web.